Come si parla di musicisti che la percorrono avanti e indietro per suonare da una parte o dall'altra del palazzo. Come si parla di musicisti che la percorrono avanti e indietro per suonare da una parte o dall'altra del palazzo. Come si parla di musicisti che la percorrono avanti e indietro per suonare da una parte o dall'altra del palazzo. Come si parla di musicisti che la percorrono avanti e indietro per suonare da una parte o dall'altra del palazzo. Come si parla di musicisti che la percorrono avanti e indietro per suonare da una parte o dall'altra del palazzo. Come si parla di musicisti che la percorrono avanti e indietro per suonare da una parte o dall'altra del palazzo. Come si parla di musicisti che la percorrono avanti e indietro per suonare da una parte o dall'altra del palazzo.